Il fuoco ha spazzato via tutto, ma l'arte può dare un piccolo contributo per ripopolare i nostri monti. Mai come quest'anno la riviera dei Cedri è stata vittima dei piromani e allora perché non dar vita a iniziative per la riforestazione? Lo hanno pensato i componenti dell'associazione Enjoy Praia, che hanno dato avvio all'iniziativa Imagine Action Art, un'onda d'arte che si arena sul Viale della Libertà di Praia a Mare e lascia interessanti opere degli artisti locali. Manufatti per attirare l'attenzione dei passanti, che attraverso una libera offerta potranno contribuire all'acquisto di alberi da piantare nelle zone montane devastate dalle fiamme. Logicamente è un gesto simbolico perché di soldi per ripopolare le vaste aree andate in fumo in questi mesi estivi ce ne vorrebbero davvero tanti. L'iniziativa è stata inaugurata ieri sera e il primo artista che ha esposto è stato Giuseppe Nicodemo con le sue opere in legno e pietra. Un dialogo tra due elementi naturali rappresentativi della nostra zona. La mostra verrà ripetuta anche questa sera, sempre sul Viale. Non è stato stilato un calendario delle rappresentazioni. L'associazione ha preferito dar vita a un'iniziativa che cresca spontaneamente. Questa manifestazione, ha spiegato il presidente dell'associazione Enjoy Praia, Vincenzo De Presbiteris, tende a sensibilizzare le coscienze e a dare un esempio di impegno civico. Proponiamo una raccolta fondi per l'acquisto di alberi da piantare dietro diretto consiglio degli organi preposti in un'area interessata dagli eventi. Oltre all'associazione Enjoy Praia abbiamo anche coinvolto il gruppo Nostro Trekking, che vive queste montagne tutto l'anno. Piantiamoli, questa è invece la parte finale del progetto che prevede per l'appunto la fase di riforestazione dei monti praiesi devastati dai roghi. Come detto poc'anzi, si tratta di un piccolo gesto di risveglio civile. Da settimane il panorama della riviera dei Cedri è purtroppo minato da zone incenerite che mettono una certa tristezza. Ci penserà l'arte a risistemare le cose, almeno per un po'. Grazie a tutti.